I sogni sono fatti di tanta fatica e quando cerchiamo di prendere delle scorciatoie perdiamo di vista la ragione per cui abbiamo cominciato a sognare e alla fine scopriamo che il sogno non ci appartiene più se ascoltiamo la saggezza del cuore il tempo ci farà incontrare il nostro destino quando stai per rinunciare quando senti che la vita è stata troppo dura con te ricordati chi sei ricorda il tuo sogno ci sono cose che non puoi vedere con gli occhi devi vederle con il cuore e questo non è facile se ritrovi lo spirito della giovinezza dentro di te con i ricordi di adesso e i sogni di allora potrai farlo rivivere e cercare una strada nell'avventura che chiamiamo vita verso un destino migliore e il cuore non sarà mai stanco alcune cose saranno sempre più forti del tempo e della distanza più profonde del linguaggio e delle abitudini seguire i propri sogni e imparare a essere se stessi e condividere con gli altri la magia di questa scoperta grazie a tutti